Alla fine del 2023 presso il palazzo di città di Giarre è stato ufficialmente presentato il progetto del parco di Riccardo in memoria del piccolo Riccardo Sorbello, un luogo incantato in corso di realizzazione in corso Messina a Giarre in memoria del piccolo Riccardo Sorbello di due anni che un brutto male ha strappato troppo presto a questa terra. Nel suo ricordo i genitori Marco e Ines stanno portando avanti il progetto di un bellissimo parco dove il sorriso di tutti i bambini sarà un modo per rivedere quello del loro Riccardo. Il progettista l'architetto Antonino Ermini ha illustrato l'onirico progetto nel corso di una conferenza stampa moderata dalla giornalista Gabriella Leonardi. Per l'occasione sono intervenuti anche il sindaco Leo Cantarella, l'assessore al verde Tania Spitaleri e l'assessore allo spettacolo Giuseppe Cavallaro. La caratteristica fondamentale che io l'ho accennata prima è la realizzazione di un parco anche inclusivo. Inclusivo vuol dire che la fruibilità del parco è anche adatta a persone a ridotta capacità motoria, con piccole disabilità, fino anche a alcuni giochi possono essere utilizzati anche da gente sulla carrozzina. È nato in un'area grazie al comune donata, data in adozione, un'area informe, un'area che non ha particolari direttrici tecnicamente diremmo nel nostro lavoro. Mi è piaciuto subito fin dal primo momento posizionare e dislocare delle aree, un'area destinata a baby, molto colorata, a forma di nuvola, con delle sedute attorno proprio dove sta il genitore, stanno gli amici, stanno i compagnetti, dedicati a loro dove ci sono tutta una serie di giochi, giochi a molla, al bilanciere, giochi anche inclusivi. L'altra area che è quella centrale, un'area di 200 metri quadrati circa, di forma circolare, rappresenta il cuore del parco, il cuore dove viene montato il gioco più grande, più importante, dove dà la possibilità di poter giocare a più bambini in contemporanea, molto bello per questo. Sempre, ci tengo a precisare, sempre con un occhio attento, sempre alla normativa, cioè dire la pavimentazione è sempre una gomma colata, una pavimentazione antitrauma, che varia di spessore proprio in funzione della pericolosità del gioco e dell'altezza del gioco, ma soprattutto gli spazi a contorno sono degli spazi opportunamente dimensionati. Molto carina, che secondo me è una particolarità di questo parco, non grande, però a mio avviso è un punto di forza, una piccola area destinata alle rappresentazioni, quasi un palco semicircolare con dei tronchi di legno che da gioco fanno un percorso di equilibrio, ma da rappresentazione fanno anche delle sedute e sono sempre presenti delle panche, che è stata la genesi del parco, le panche in muratura, curve, tre. Tre come tre sorrisi, sempre illuminati, soprattutto di notte, perché sono state queste forme, queste linee, sono state proprio la genesi del parco. Soprattutto sono illuminate, come dicevo prima, perché voglio e mi immagino che queste tre linee curve, questi tre sorrisi sulla terra possono anche essere visti dal cielo. Il Papa di Riccardo, Marco Sorbello, ha portato la contabilità della raccolta fondi spiegando quanto ancora ci sia da fare. Nel corso degli eventi natalizi Marco e Ines sono stati presenti a tante manifestazioni per continuare la raccolta fondi, ringraziando sempre con un dono, ma tante sono le iniziative che hanno già in programma per il nuovo anno. Allora, alla luce di quello che si è concluso oggi nella conferenza stampa, posso aggiornarvi sul fatto della raccolta fondi. Quindi, come ho detto in precedenza, abbiamo raggiunto un totale di 100.000 euro, alle quali si aggiungeranno 10.000 euro dello sponsor del Banco BPM e in più i fondi che verranno donati, destinati dal Comune di Giarre presso il Parco di Riccardo, la nostra iniziativa, che sono già 20.000 euro, 21.000 euro che sono già stati spesi per la costruzione delle quattro piattaforme dove verranno implementati i giochi e poi ci sarà un altro bando, la quale nei prossimi giorni il Sindaco ci ha promesso che verrà, diciamo, destinato al progetto del Parco di Riccardo che ammonta una cifra ben superiore ai 40.000 euro. Tutto questo ovviamente non basta perché il progetto dell'architetto Ermini è un progetto che è un progetto molto ambizioso, molto bello e quindi dobbiamo continuare a lavorare per raccogliere fondi attraverso sempre il nostro crowdfunding, la rete del dono, che è sempre attivo sul Sorriso di Riccardo, i conti correnti bancari, ma tutto questo lo trovate sul sito www.lsorrisodiriccardo.org. Quindi continuate a sostenerci perché ce la facciamo e è ricca solo merita. La vita è imprevedibile, non possiamo scegliere quello che ci accadrà, quello che possiamo scegliere e come reagire. Noi abbiamo scelto di reagire lottando perché Riccardo, il nostro piccolo eroe, venga ricordato in un luogo d'incanto, ha dichiarato in conferenza stampa la mamma di Riccardo, Ines Salanitri. Sì, è stato importante poter vedere, grazie alla presentazione dell'architetto, le immagini di come vorremmo che fosse strutturato il parco. Questo anche per simulare la popolazione a non smettere di sostenerci, perché è vero che già una cifra importante è stata raggiunta, ma ancora non è purtroppo raggiunto l'obiettivo finale per poter realizzare il parco così come è stato presentato. Noi ovviamente ci impegneremo a garantire la manutenzione del parco nel lungo termine, con tutte le iniziative di organizzazione eventi e qualsiasi attività che possa essere utile per poter mandare avanti nel tempo in maniera perfetta e organizzata al massimo tutto per come lo immaginiamo.